Oggi la giornata inizia con un evento tragico Sto andando dal dentista Ho un problema, una gengiva Che mi sta facendo impazzire da quando ho avuto l'influenza Ed è il momento di andare a capire che cos'è, perché E come faccio a non averlo più Perché basta, basta Vorrei tornare a stare bene al 100% Grazie mille, grazie, grazie In questo momento è mattina prestissimo e sta piovendo Il che non è proprio un gran inizio di giornata Come contorno al dentista, insomma, già fa schifo quello E vabbè Per fortuna a Bologna ci sono i porti, ci saranno la pioggia Sarebbe un bel problema Pare di stare dentro un freezer oggi Si congela, si congela Insomma, bella giornata Allora, se non sbaglio Il mio dentista dovrebbe essere quello Non sono sicurissimo, però Auguratemi buona fortuna Perché io e il dentista non andiamo per niente d'accordo Mi fa una gran scarica Di solito ci viene la mia mamma con me Però non ci è venuto nessuno Beh, ci siete venuti voi A dopo, speriamo Speriamo perché magari muoio dentro Per fortuna c'è gente di compagnia qua Sopravvissuto È sempre inquietante andare dal dentista perché sei lì sdraiato inerme Hai il loro faccione a un centimetro dalla faccia Che ti guardano dentro e ti scavano Però non è andata male perché non hanno fatto niente oggi Mi hanno detto Sì, hai il problema Ci vediamo tra 15 giorni Mi è andato a prendere un antibiotico E ora sto andando a prenderlo in farmacia In teoria questo antibiotico dovrebbe darmi una pace momentanea E tra 15 giorni vado a farmi vedere di nuovo E se è il caso Mi fanno una mini operazione alla gengiva Nulla di tragico Volete vedere che cosa ho in bocca? Oggi 8 marzo colgo l'occasione per fare gli auguri a tutte le donne che mi stanno guardando Che penso siano la percentuale maggiore del pubblico in generale che mi sta guardando Donne È arrivato l'arrotino No, no, no Grazie per il supporto che mi date Grazie anche agli uomini Ma oggi in particolare grazie a voi Per tutto quello che fate per me Senza di voi le mie giornate farebbero schifo Speriamo che il mondo vada avanti La società progredisca fino a una totale uguaglianza tra i sessi E basta, non so più cosa dire Questo non è un canale serio Io non sono una persona seria E questo è un discorso fin troppo serio per me Ancora, ancora auguri E mi dispiace che voi stiate guardando questo video Il 9 marzo Però Auguri C'è una goccia sullo schermo Sto frattando la pioggia Di nuovo Molti di voi mi dicono nei commenti Ma perché Nelson non usi l'ombrello? Oppure il prossimo Natale Nelson ti regala un ombrello? Gli ombrelli sono per i deboli Penso di aver usato l'ombrello una volta in vita mia Tipo Sì, poi devo stare zitto se mi ammalo Sto correndo Perché sono ovviamente in ritardo Dovevo essere lì alle due e mezza E Sono tipo le due e cinquanta Mi è entrato qualcosa nell'occhio Sono arrivato Il parrucchiere si trova dentro questo negozio di vestiti Cioè tu entri, vai avanti e c'è il parrucchiere Ed è quello dove provai a venire già la settimana scorsa E nonostante l'appuntamento lo trovai chiuso Devo togliere l'acqua da sto schermo E anche i termini è chiari magari Arrivai, feci per entrare e mi disse Guarda che è chiuso E io, ma ho l'appuntamento E loro, eh Adesso speriamo sia aperto e abbiano un posto per me Perché se lo scherzo Ciao Nelson Ciao Se è giusto un po' bagnato Addio capelli Ciro per favore Fammi uscire l'ora questa cosa Tranquillo Farò in modo Di farsi uscire molto Lascio tutto a tonno Vedi, ti sta facendo il video? Ah, lo so Ah, adesso, ma io posso fare una... Eh? Cosa? Ok, si vede quel video là? Eh, non so se ti si vede Sì, sì, mi vedi, mi vedi Eh, mamma! Fa il culo! Mamma! Oh, giusto Finish! Grazie Ciro Grazie a te Dove sei? Questo era un 5 in teoria Grazie Missione compiuta Però adesso per qualche giorno Tengo la cuffia Perché devo abituarmi psicologicamente A vedermi senza la massa in forma di capelli Che avevo prima Tanto continua a esserci il sole Per fortuna Quest'oggi vi insegno L'antica arte Dello scroccone Mi vedete spesso Scroccare dei pasti Quindi del cibo Ma non è l'unica cosa Che si può scroccare Posso usare la tua stampante Guardate cosa si fa ai cugini antipatici Dove come si spegne No, non spegne No, non spegnerò Non spegnerò Così stampare Questa è una lezione di microbiologia Sulla virologia Ma come si scoglie Guardate tutto Vi presterò i miei appunti Guarda, potete leggere Così vi fate una minicultura Su questo inizio programma Visto che sono iniziate da poco le lezioni Uè Uè Come si seleziona Cioè, non capisco Come stai, oh No, 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 porca Come si fa? Ti spacco il Mac sulla testa Ma non si è però dopo averlo fatto E li faccio in ormai Mi ha un cartell'animato Bella, oh Bella, oh Saluta, oh Bella, oh Saluta Saluta loro Ciao No, no Prossima tappa Lezione di canto Mi sono schiantato Continua inesorabilmente a piovere E a fare un gran freddo Me la usa Non so quale sia l'aula Non proviamo una a caso Questa Regà, regà Mo ceno E poi vado di Black Desert Lezione di canto È andata tutto bene Nonostante sia messo malissimo Come voce Tutto per la tosse E il raffreddore E lo schifo Ovviamente non cucino io stasera Non cucina neanche Frank Ho ordinato il cibo E mentre aspetto che arrivi Monto questo video E poi dopo Mentre mangio Mi guardo la nuova puntata Di Shameless Vidalog La tua scusa Per essere un'ora e un quarto In ritardo Praticamente C'era traffico con l'auto Ma non hai l'auto